Ragazzi, aggiornamento fatto! Ci andiamo a vedere nel negozio un attimo una cosa, raga, avete capito benissimo raga, adesso ci saranno queste per comprarle con questi, guardate le nuove skin, è la nuova skin di Piper! Troppo bella la skin di Piper! Andiamo a prenderci il nostro brawler, 28 brawl, dov'è? 28 brawler, 8 bit, il grande 8 bit! Andiamo un attimo, raga, nel negozio a prenderci questa, per prenderci, vediamo se ci becchiamo punti per lui. Ci prendiamo ancora una mica. Ok, vabbè, niente però, non mi importa. Andiamo subito a farci una bella sopravvivenza in singolo. Raga, è troppo bello, raga, è un grande lui. Dovrebbe, è fortissimo. È lento, raga, 8 bit è molto molto lento, però è forte, raga, molto molto. È seriamente una bomba, siamo tutti 8 bit. Siamo tutti 8 bit, raga, è daia, è daia, tutti 8 bit. Madonna, raga, è una bomba, è una bomba. Eh, vabbè, io sono scarso perché lo provo per la prima volta, ma è seriamente una bomba, raga. E ci saranno nuovi gradi, oh, raga, nuovi gradi, di cosa stiamo parlando, nuovi gradi? Che bomba, che... No, la torretta è brutta, no, ma la torretta non ci deve manco essere. Beh, uno si chiama bene, va 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 bene. No, raga, mi ha ammazzato. Vabbè, io ho un power up, però... Più 4. Raga, 8 bit è una bomba, 8 bit è una, una e... Non riesco a parlare, è troppo bello, per essere vero. Andiamo un attimo con il primo che ce lo portiamo al grado 20. Raga, vabbè, ovviamente lo miglioriamo, lo portiamo al... Grado 6, a livello 6. E ci dovrebbero essere nuovi... Nuovi gradi. Quindi, 8 bit è se lo proveremo... L'abbiamo già provato, se lo proveremo in due, però prima voglio portarmi il primo al 20. Raga, sta là un po' laggando, ma è normale. Aspettiamo un attimo, raga. Che sta laggando, perché... Ma è normale, raga, perché ha appena fatto l'aggiornamento, raga, quindi è normale che laghi. Ma so, però, lagga, eh? Calmi, calmi, raga, calmi. Ragazzi, mi lagga, non so cosa devo fare. Mi lagga? Mi lagga? Mi lagga? Oh mio... Oddio. Cioè... 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 Raga? Io non posso combattere in queste condizioni. Ok, ok, riprendi... Non è vero? Sono morto, raga, non mi fa muovere. Dai, però che boh... Non è giusto. Raga, dai, eh. Perché fa così? Non... E dai, vieni vicino. Se c'è il coraggio. 10, 10, 10, 10, tu è spacco. Cos'è? Eh, vabbò, sì, raga. Eh, lagga un botto. Eh, vabbè. Sorry, è lagga. Vabbè. Andi, che brutta faccia, eh? C'è prima la skin? Allora... Però... Notizie, cosa ho detto? Fatto l'aggiornamento, raga. Adesso proviamo anche nell'altra modalità. Ok. Quindi non si è riuscita il nostro bruller preferito. Ah, l'emo... Cioè, raga, devo prima vedere, prima di mettere pronto, ovviamente. Ho svegliato. Qua. Non qua. Dov'è? Qua. Raga. Una bomba. Raga, giochiamo con... Il mio amico. Che anche lui, 100% userà... Lui, perché è troppo forte. Ed è una bomba. Vabbè, tanto lui sta giocando. Vabbè, noi ci mettiamo il bruller quello bello. E ci rifacciamo. Un attimo, ne vedo. Devo capir... È vero! What? Ah, sì, è vero, ovviamente. Cioè, adesso dal 509 ce l'avevo. Adesso 550... Wow, 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 wow. Wow. È molto indirizzato, eh? Ok. Lo funzioniamo. Un, due, così, anche se lagghiamo, il nostro compagno ci aiuta. Che lag, su, ragazzi. Lag. È proprio... Due... No, regà, no, io ando al lag, no. Con lui no al lag. Please, no, no. Cioè, regà, ma... A livello uno, eh? A livello uno. Regà, siamo tutti lui, siamo tutti lui, siamo tutti lui. E lo spacchiamo. Siamo tutti lui. Regà, regà, siamo tutti lui. Che bello. Regà, siamo tutti lui. Non ci sto a credere. Anche se non sta a laggà. Siamo tutti. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. No, non ci mori. Non mi 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 ci mori. No. No. Aspè. Fammi parlare. E sono morto, regà. Vabbè, terzi. Che dovrebbe dare più? Più, più quattro, regà. Più quattro. Regà. Di cosa stiamo parlando? Di cosa? Nel negozio. Un attimo che devo andare a vedere una cosetta. Ok. Ok, vabbè. Nel negozio è cambiato poco, poco, poco. Però Vediamo se Plucky adesso c'è. Plucky! Invitiamolo. C'è la più forte. Perché è uscito? Invitiamo un altro nemico. Perché? Non capisco. C'è GX Tortellini. Aspetta, regà. C'è GX Tortellini. Perché? Io non capisco. Un attimo. Adesso vedo. Perché stanno adeduti a provare il nuovo brawler. Ecco. Perché tutti adesso provano il nuovo brawler e... Non si possono mettere due brawler insieme. Ovviamente. Quindi io ovviamente. E così? Beh, regà. Ultima partita e poi concludo qua l'episodio. Anche se non sta lagga come non so cosa. E' molto molto bello. E comunque football... Football, scusate. Sarà una modalità fissa. Mamma mia. Forte un po'. C'è una botta. Una bomba. Una vera e propria bomba, regà. Regà, campioniamo un attimino. Regà, perché... Sto a laggare come non so qua. No, regà. No, regà. Non devo morire. Grande. Regà, scontro finale. Questa è l'ultima partita. Ci abbiamo speranza. Dagli, regà. 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 Che è dato? Troppo forte. Con 10 power up. Quanto danno fa? Quanto? Quanto? E te ho ucciso? Abbiamo vinto! E abbiamo vinto, regà. Bene, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando. Lasciate un like, mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo con il prossimo video. Domi e 8bit è tutto. Ciao, ciao! Ciao, ciao!